una fiaba sotto il noce stregato di gloria castellana secondo la tradizione la notte di san giovanni 24 giugno si radunano le streghe che ballano sotto la pianta a loro sacra il noce ma allo spuntare del giorno san giovanni la vergine maria passano a benedire le acque cosparsi di erbe profumate e come per incanto ogni sortilegio svanisce nella fiaba una fanciulla è costretta a ballare all'infinito sotto il noce stregato calzando zoccoli di legno di fico usati anche dalle fate di mezza estate per nascondere la maledizione del piede caprino bravo giovane e la marchesina rosella de piro si affacciò dalla finestra del suo palazzo mi hai portato quel paio di zoccoli nuovi che ti avevo chiesto lo zoccolaio silvano si fermò subito togliendosi il cappello e disse un po stupito non ve ne avevo già dati un paio nuovi all'inizio del mese la marchesina rosella divenne più rosa ancora del fiore che portava il suo nome e disse con certo tono altero tuttavia ho bisogno di un altro paio non devo renderne conto a te mi pare li hai o non li hai il giovane si inchinò poi si inginocchiò si pose davanti il sacco che portava in spalla lo aprì e tirò fuori cuoio morbida pelle legno di fico burloncini d'ottone dorato e disse comincerò subito a fabbricarne un paio nuovi nuovi e si mise al lavoro con le sue mani abili e forti in min che non si dica il nuovo paio di zoccoli era pronto e silvano disse con rispetto se volete provarli marchesina rosella ci pensò un attimo e poi disse farò scendere la mia serva mariannina tanto abbiamo la stessa misura dopo poco infatti scese mariannina tutta contenta dicendo su silvano fammi vedere che belli mi vanno giusti e quindi andranno bene anche per la marchesina ma disse allora silvano mi sai dire che ci fa la tua padroncina con gli zoccoli appena un mese fa gliene ho portati un paio belli robusti possibile che li abbia già consumati mariannina prese gli zoccoli di legno di fico dieda il giovane alcune monete disse che vuoi sapere tu non sei contento di lavorare per una così bella e nobile signorina non sei giustamente pagato o certo sì ma e allora zitto e vai e con la stessa aria altera della sua padrona mariannina se ne andò e rientrò in tutta fretta nel castello silvano ripose in silenzio i suoi attrezzi nel sacco e si diresse verso casa egli abitava in un vecchio seminterrato sotto la villa del marchese de piro che cortesemente lo lasciava entrare uscire dal cortile dove cresceva altissimo e profumato un antico gelsomino ardeva inoltre sempre perenne la fiamma di un lampione davanti all'immagine d'oro di gudula la piccola santa che andava per boschi e paludi con la sua lanterna accesa come ogni sera silvano si fermò sotto l'immagine si tolse il cappello e pregò brevemente poi entrò nella modestissima stanza che divideva con sua sorella elisabetta e le disse ti sembrerà strano cara sorella mia ma anche oggi ho dovuto fare in breve tempo un paio di zoccoletti belli e robusti per la nostra marchesina elisabetta il cui unico difetto era un'infinita curiosità disse subito ma che ci fa con tutti questi zoccoli tanto più che non si muove mai dal suo castello e non fa neppure un passo a piedi qui gatta ci cova caro silvano bisogna indagare silvano sospirò da tanto tempo ormai egli era innamorato della marchesina rosella ma che poteva sperare lui giovane bello sì ma povero zoccolaio quando tanti conti marchesi e perfino principi erano venuti a chiedere la mano di lei e tutti erano stati regolarmente respinti non sono affari nostri sospirò il giovane che dalla pena non aveva più nemmeno voglia di cenare o sì che lo sono dato che gli zoccoli glieli fai tu esclamò elisabetta che conosceva il cuore di suo fratello e avrebbe dato ogni cosa pur di vederlo felice e siccome lei si occupava di lavare la biancheria della marchesina prese un bel cesto un pezzo di sapone da bucato una spazzola e disse domani salirò a prendere la biancheria e vedrò di informarmi non mettere il naso dove non devi ma sì che devo non essere sciocco così la mattina seguente sul far dell'alba elisabetta partì arrivata al palazzo lo attraversò e come sempre godette camminando sui lucidi pavimenti nelle sale in fuga una dietro l'altra affrescate decorate affacciate su ariose logge che da lontano lasciavano intravedere l'azzurro del mare salì nelle stanze della marchesina lei ancora dormiva nel suo letto tra lenzuola di seta sotto un baldacchino di trine elisabetta cominciò a raccogliere alcuni capi di biancheria che avevano bisogno di essere lavati e lo sguardo le cadde sugli zocco riposati ai piedi del letto li guardò attentamente erano tutti infangati e già consumati in quel momento rosella aprì gli occhi e si mise seduta chiedendo dov'è mariannina elisabetta le fece un bel inchino e rispose buongiorno marchesina vado subito a chiamare la vostra servente poco dopo venne infatti mariannina e aiutò la marchesina a vestirsi di tutto punto ai piedi morbide scarpine di seta poi l'accompagnò nella sala da pranzo dove il marchese suo padre vedovo da quando rosella era nata l'aspettava per fare colazione come ogni giorno domandò la figlia tesoro mio hai deciso finalmente a quale dei numerosi pretendenti concederai la tua mano a nessuno padre mio io sto tanto bene così ma ma non è possibile figlietta d'oro un buon matrimonio ci vuole sono ancora troppo giovane ma se proprio ci tenete un matrimonio perché non riprendete moglie voi caro padre amavo tanto tua madre e non credo esista un'altra donna come lei e ormai sono vecchio niente affatto siete nel pieno delle forze i vostri capelli sono ancora folti e neri e tante dame me ne sono accorta vi guardano compiaciute sceglietene una e risposatevi non mi sento di scegliere nessuna ah lo stesso per me riguardo a quei principi principini che tutti i giorni mi fanno la corte e intanto pensano all'ammontare della mia dote e alla possibilità di spadroneggiare nel nostro palazzo non voglio sposarmi per ora almeno e finito di mangiare rosella corse in giardino a raccogliere i suoi fiori preferiti e a fare il chiasso con le amiche elisabetta intanto aveva riempito la sua cesta ed era uscita per recarsi alle vicine fonti riempì con cura alcuni orci d'acqua limpida e intanto rifletteva in casa la marchesina portava solo fragili scarpine per uscire venivano a prenderla in carrozza o portantina come mai allora quei graziosi ma robusti zoccoletti risultavano già così elogorati sbatté per bene una candida camicia sulla pietra della fonte la immerse nell'acqua fonda e un tratto se la sentì quasi tirare dalle mani stupita vide altre due mani con lunghe unghie dorate che stringevano il panno e udì anche una vocetta che le diceva ti dirò io come scoprire il mistero dei zoccoli di legno di fico sbuco fuori una curiosa creatura con lunghi capelli e ciglia blu che badava a dire ti svelerò io il mistero ma tu devi farmi un favore chi sei che favore mi chiamo arnoella e sono la custode della fonte lava anche la mia camicia falla diventare bella candida come quella della marchesina elisabetta guardò la camicia quasi grigia consunta e sbrendellata di lei e pensò che davvero sarebbe stato difficile farla diventare candida e bella come quella che aveva appena lavato tuttavia accettò stese il bucato che aveva finito di lavare su una siepele accanto e cominciò a lavare la camicia di arnoella strofinò ben bene con un pezzo di sapone sciacquò ripetutamente e mise ad asciugare brillava già il sole di mezzogiorno e non ci volle molto elisabetta portava sempre nelle numerose tasche del suo grembiule ago e filo e si mise a cucire la camicia cercando di nascondere i rammendi con qualche abile ricamo e alcuni merletti candidi e nuovi nuovi che pure teneva sempre in tasca con spilli e ritagli di fine dell'uto alla fine uscì fuori una camicia così ben messa da sembrare addirittura elegante ancora calda di sole e profumata di pulito quando arnoella seduta sull'orlo della fonte se la rimise batte le mani oh che brava ecco ovunque cosa devi fare venerdì a mezzanotte vai il castello e tieni d'occhio la porticina posteriore quella che dà direttamente nel parco vedrai qualcosa di interessante ma attenzione stacca un ciuffo di pelo dal tuo cane preferito e tienilo sempre in tasca ti proteggerà da ogni maleficio ciò detto scomparve elisabetta corse a casa e raccontò tutto al fratello silvano restò muto dalla sorpresa poi disse andrò io a mezzanotte a controllare la porticina del castello non voglio che tu ti esponga qualche pericolo poi fischiò leggermente e il fido cane da caccia gli venne incontro tutto contento gettandogli le zampe anteriori sulle spalle tienilo fermo disse elisabetta e con le forbicine tagliò un bel ciuffo al cane che per niente offeso sorrise e scodinsolò venne il venerdì ma silvano si era preso una bella infreddatura e stava a letto con una gran febbre è destino che vada io disse elisabetta mise in tasca il pelo di fido si avvolse in un mantello nero come la notte e uscì arrivata al castello sedette dietro un albero tenendo d'occhio la porticina ovale che un tenue raggio di luna appena spuntata illuminava non era ancora mezzanotte che lentamente si aprì e ne uscì la marchesina rosella questa poi pensò la fanciulla ma dove andrà così sola e a quest'ora guardò bene e notò che i piedi indossava gli zoccoli di legno di fico svelta svelta si addentrò nel bosco ed elisabetta dietro arrivarono dopo un po ad un'ampia radura e lì dove la marchesina appoggiava i piedi spuntavano come per incanto magnifici fiori bianchi lei camminò in girotondo qua e là quasi danzando e in breve la radura assomigliò a un verde drappo ricamato di fiori la luna li illuminava e un tenue vento notturno li faceva ondeggiare elisabetta tutta ammirata si chinò a guardarli sembravano piccoli delicati gigli bianchi non resistette alla tentazione di raccoglierli e ben presto se ne fece un gran mazzo ma quando si rialzò per continuare l'inseguimento ebbe un bel guardare di qua di là la marchesina rosella era sparita molto delusa elisabetta tornò a casa e la mattina dopo raccontò tutto al fratello che le disse venerdì prossimo andrò io e infatti partì ma nella fretta dimenticò di mettersi in tasca il pelo del suo fidocane poco prima di mezzanotte vide uscire la marchesina rosella dalla porticina posteriore del castello e si mise a seguirla anche lui vide i piccoli gigli bianchi spuntare da sotto i suoi piedi ma si guardò bene dal fermarsi raccoglierli arrivarono così alle sponde di un lago melmoso denso di foglie e ramoscelli la marchesina vi si tuffò e scomparve sotto un fitto strato di verde silvano si tuffò anche lui e la seguì in un lungo stretto canale ed ecco riemersero e si trovarono ad un'ampia riva asciutta quattro vie si diramavano biancheggiando la luce chiara della luna e un gigantesco noce cresceva al centro seduta ai piedi dell'albero undici streghe sembravano aspettare appena arrivò rosella saltarono su la presero per mano e lietamente cominciarono a ballare al ritmo di un leggiadro giocondo saltarello mille luci si accesero tra i rami del noce ed erano gli occhi scintillanti e un po spettrali di altrettante civette attonito silvano pensava dunque è una strega la mia marchesina ed ecco perché i suoi zoccoli sono sempre così consumati tutte avevano i piedi zoccoli di legno edifico e battevano il tempo con tale energia che il suolo tremava silvano non poté trattenersi e si slanciò in avanti gridando mia cara marchesina vi supplico venite via usciamo da questo cerchio infernale datemi la mano rosella si girò ridendo gli afferrò la mano così che anche lui sentì le sue gambe che cominciavano prima a dimenarsi e poi a danzare indipendentemente dalla volontà danzarono tutta la notte e quando una prima luce avvolse il noce e da un campanile lontano e che giarono i rintocchi dell'ave maria le streghe scomparvero di colpo e silvano cadde lungo disteso per terra come morto rosella si inginocchiò davanti a lui e lo chiamò ma inutilmente povero giovane hai danzato bene però ma il tuo cuore non ha resistito un nuovo rintocco di campane la fece rialzare e sparire anche lei di corsa intanto elisabetta era rimasta sveglia ad aspettare il fratello e accortasi che egli non aveva portato con sé il pelo del fido cane era seriamente preoccupata venne il nuovo giorno e silvano non tornò neppure i giorni seguenti si seppe qualcosa di lui salendo come al solito al castello elisabetta incontrò mariannina che la chiamò da lontano e le disse dite a vostro fratello che la principessa ha urgente bisogno di un nuovo paio di zoccoli di legno di fico elisabetta scoppiò in pianto sono giorni che mio fratello è scomparso dite alla vostra principessa che zoccoli di legno di fico non ne avrà più mai più aveva gridato così forte quelle parole che il marchese in persona che stava affacciato a una delle terrazze laudì e le fece cenno di avvicinarsi a elisabetta venne il batticuore e tuttavia si avvicinò risoluta come vi chiamate ragazza e perché piangete gridate sotto i miei balconi elisabetta fece una riverenza si presentò elisabetta il mio nome sono detta a lavare la biancheria dalla marchesina rosella mio fratello silvano invece le ha sempre costruito con le sue abili mani tante paie di zoccoli di legno di fico zoccoli di legno di fico esclamò il marchese strabiliato e che se ne fa la mia figliola vorrei tanto saperlo anch'io signore tanto più che questi zoccoli si consumano come neve al sole e tanto più che ora il mio caro silvano è scomparso ed elisabetta ricominciò a piangere vedendola così disperata il marchese de piro la prese per mano e la fece sedere su una delle panchine la sua mano è ruvida si trovò a pensare il marchese ma calda e graziosa il suo viso è così bello e i suoi occhi pieni di luce su via non piangete le disse sicuramente vostro fratello avrà qualche motivo sapete dov'era diretto elisabetta apri la bocca ma poi preferì tacere l'atteggiamento del marchese le sembrò particolarmente benevole fiducioso e preferì non allarmarlo raccontandogli le strane cose capitate forse mormorò il suo lavoro lo ha portato in qualche altra città vedete fece il marchese aspettate ancora un poco e se davvero non avrete notizie venite a dirmelo e manderò senz'altro le mie guardie a cercarlo elisabetta si alzò e fece una riverenza tanto graziata che il marchese le riprese la mano e vi depose un bacio pensando ecco una fanciulla davvero nobile e garbata elisabetta tornò in fretta a casa e come faceva silvano si fermò a pregare davanti alla piccola santa gutula con la sua lanterna d'oro il mattino dopo andò come al solito a lavare la fonte e immergendo i panni due mani li afferrarono di nuovo la stramba arnuella tuo fratello non ha portato con sé il pelo del fidocane come io avevo raccomandato le disse ora è caduto vittima degli incantesimi delle mie sorelle e in questo modo non potrà nemmeno sposare la rosella del suo cuore vittima anche lei e costretta a ballare il saltarello tutti i venerdì notte e mezzanotte sotto il noce del quadrivio oh ma come fai tu a sapere io so tutto carina e tu sei stata buona a lavare e ricucire la mia camicia nessuno lo ha mai fatto per me da 600 anni a questa parte elisabetta restò bocca aperta sono davvero tanti anni e senza lavarsi mai puoi darmi qualche indicazione su dove trovare il mio buon silvano o lui è rimasto là ai piedi del noce non morto ma come se lo fosse sordo persino i richiami della marchesina rosella che pure ora lo chiama sempre e inutilmente cerca di rianimarlo come posso fare tu vuoi raggiungerlo ma io non posso dirti come spezzare l'incanto tu vai comunque se hai fede e non avrai paura incontrerai qualcuno che te lo spiegherà io posso solo dirti che dovrai aspettare la vigilia del 24 di giugno il giorno di san giovanni ahimì non nominarlo al sentire il suo nome io e come me tutte le mie simili devo solo sparire e arnuella dileguò elisabetta tornò verso il palazzo riflettendo e attraversando il giardino incontrò la marchesina rosella sola intenta a intrecciare ghirlande di fiori elisabetta sinchinò salutò e chiese come mai qui tutta sola dove sono le vostre compagne di giochi non ho più tanta voglia di giocare sospirò rosella o capisco e per chi intrecciate questi bei fiori di caprifoglio per un mio caro amico che dorme e non si vuole svegliare morto forse e gli occhi della marchesina si riempirono di lacrime elisabetta le appoggiò una mano sul braccio chiedendo se si svegliasse che cosa vorreste vorrei che mi chiedesse di diventare sua sposa perché è a lui che ho dato il mio cuore anche se non fosse un nobile cavaliere un principe ma un semplice zoccolaio per me sarebbe sempre principe e cavaliere bene sorrise elisabetta allora proverò a cercare di ridestarlo perché dovete sapere egli è mio fratello silvano e vi ama fin da quando eravate piccine saltavate oltre i cancelli del palazzo per correre nel parco rosella congiunse le mani esclamando sarà difficile ma ti seguirò con le mie preghiere vieni e la condusse davanti all'immagine di santa gudula lei ti illuminerà ne sono certa ma tu non fare come me che una volta incontrandola mi rifiutai di seguirla e mi misi a correre invece dietro undici streghe che ballavano ai piedi del noce come forsennate e anche ora ogni venerdì a mezzanotte devo correre da loro a saltare quel pazzo saltarello farò del mio meglio le disse elisabetta un po impressionata di lì a pochi giorni era proprio la vigilia di san giovanni elisabetta si preparò salutò il fido cane che voleva a tutti i costi seguirla ma devo andare sola d'altra parte qualcuno deve rimanere a far da guardia la nostra casetta capisci gli spiegò e lo lasciò seduto sugli scalini del portone le orecchie tese e lo sguardo intento seguirla uscì dalla porticina ovale attraverso il bosco arrivò sulle rive di una palude limacciosa e strana le piante crescevano fitte e scendeva lento il crepuscolo così non si vedeva granché elisabetta si fermò non sapendo cosa fare e che strada prendere timorosa di scivolare nell'acquitrino ed ecco da lontano vide brillare un lume ora ondeggiava e lentamente si avvicinava una giovane donna camminava tenendo una lanterna in mano chi siete signora le domandò e dove andate a quest'ora già tarda sono venuta a illuminarvi la strada sorrise quella perché fa scuro ed è pericoloso camminare nella palude elisabetta la guardò meglio ma la luce della lampada non arrivava a rischiarare bene il viso della sconosciuta inoltre ombreggiato dal velo che le copriva il capo tuttavia la ringraziò e cominciò a seguirla a un tratto un calpestio e voce cute la fecero trasalire comparvero undici streghe precedute da un grazioso giovinetto vestito di nero proprio lui disse con voce calda e festosa ti aspettavamo cara elisabetta aspettavate me chi siete potete chiamarmi serpentino come mai conoscete il mio nome il tuo caro fratello ce l'ha detto e gli ti aspetta ansiosamente ai piedi del noce deve insegnarti a danzare insegnarmi a danzare molto stupita elisabetta fissò lo sguardo sui piedi il serpentino ma era quasi buio ed egli inoltre si sposta un poco dietro un cespuglio le undici streghe ridacchiavano tutte avevano i piedi zoccoli di legno di fico elisabetta chiese alla sua accompagnatrice che stava in silenzio vicino a lei potete alzare un po' con la lampada voglio vedere bene i loro piedi la giovane alzò la lampada ma ecco serpentino soffiò con forza e rabbiosamente la fiammella vacillò e si spense cadde il buio più nero ed elisabetta si sentì quasi svenire dalla paura ma la giovane vicino a lei la sostenne e disse inginocchiamoci e preghiamo san giovanni e la vergine maria a sentir nominare quelle sante persone con grida acute streghe giovinetto scapparono via da tutte le parti simili a top impazziti la lanterna all'improvviso si riaccese e brillò più luminosa e splendente di prima elisabetta osò rialzare il viso che aveva nascosto fra le mani e illuminato dalla fiamma vide bene da vicino il profilo della sua protrettrice che con calma finiva di pregare ma ma balbettò elisabetta chi siete voi dov'è che vi ho già vista come vi chiamate gudula quasi tutti i giorni o tuo silvano vi fermate pregare davanti a me a volte lo fate quasi senza accorgervi ma io raccolgo sempre le preghiere dei passanti anche i più distratti è mio compito illuminare la notte anche soprattutto quando demoni o streghe cercano di spegnere la mia lampada vieni ora ascoltami non c'è più molto tempo sedettero su un ceppo ed elisabetta si accorse con stupore che subito uno stuolo di piccoli gigli era sbocciato ai piedi di gudula se vuoi salvare tuo fratello e ridestarlo dal malefico incanto devi andare subito a raccogliere le erbe di san giovanni e metterle in una tinozza d'acqua pulita domattina all'alba san giovannino la vergine maria col suo bimbo gesù passeranno e benediranno le acque laverà il viso di tuo fratello ed egli si sveglierà un poco d'acqua serbala per rosella e ogni maleficio scomparirà ma quali sono queste erbe sono 27 e tutte dall'intenso odore 27 e già è sera come farò a trovarle io ti farò luce e te le indicherò elisabetta la braccio stretta le ginocchia oh sì mi ricordo della vostra immagine proprio nel vicolo accanto alla mia casa sotto il palazzo del marchese e tante volte ho acceso un lume per voi e anche mia madre lo faceva quando ancora era al mondo e tua nonna anche e sua madre prima di lei sorrise gudula carezzandola piano sulla testa è arrivato il momento che quel lume brilli per te mia cara e per tuo fratello quindi si alzarono e cominciarono a cercare molte piantine crescevano lontane fuori dal bosco negli orti sul ciglio della strada dove ancora la luce del giorno non era tramontata e sembrava addirittura essersi fermata nel cielo di un intenso azzurro con il grembiule pieno delle profumatissime erbe elisabetta andò alle fonti dove era solita lavare lì aveva lasciato proprio quel giorno un suo secchio lo riempì con cura e vi sparse erbe e fiori ora torna a casa le disse gudula lascia il secchio fuori della porta e aspetta il mattino poi fai come ti ho detto elisabetta ubbidì prima però si girò voleva abbracciare di nuovo la giovane santa ma con suo gran increscimento non riuscì più a vederla sospirando e profondamente commossa camminò in silenzio verso casa il fido cane la scorse da lontano e subito le corse incontro le gettò le zampe al collo e uggulò e sembrava stesse per dire qualcosa invece si mise a starnutire elisabetta che poco prima aveva voglia di piangere ora scoppiò a ridere depose il secchio accanto all'uscio e si ritirò in casa col cane tutto scodinsolante aspettando l'alba ingannò l'attesa pregando tessendo intrecciando alcune delle erbe profumate avanzate dal gran mazzo che aveva raccolto e pensando a quanto sarebbe stato felice Silvano il suo risveglio di sposare la bella rosella non aveva capito tanto bene perché doveva serbare un po' d'acqua anche per lei ma se così aveva detto Gudula così occorreva fare andò a dare un'occhiata fuori ma ancora era buio pesto e lievi fruscile misero un po' d'ansia si rimise a tessere lavorò tutta la notte e un bel velo candido uscì dalle sue mani un velo adatto a una sposa infine si appoggiò il telaio e si addormentò profondamente l'alba era sorta quando riaprì gli occhi dalla finestra succhiusa penetravano il sole, l'azzurro del cielo il canto degli uccelli uscì fuori prese un poco d'acqua ora profumatissima e la versò in una piccola anfora che poi ripose con cura nella credenza afferrò il secchio e corse nel posto dove ancora dormiva preso d'incanto suo fratello dolcemente gli versò l'acqua in viso e subito egli aprì gli occhi si alzò e la guardò un po' stupito va bene che è già caldo ma perché questa doccia di prima mattina non ricordi dunque più niente Silvano mio e ad ogni buon conto gli versò ancora di quella fresca acqua adorosa sul capo e sulle mani egli si mise a ridere mi ricordo benissimo devo correre da Rosella e chiederle di diventare mia sposa vorrà? certo così corsero entrambi al palazzo e trovarono giusto Rosella e il marchese De Piro seduti in una delle terrazze ad aspettarli Rosella si alzò subito e andò incontro al giovane che cadde in ginocchio e le baciò le mani poi chiese al marchese se era contento di dargli la figlia in sposa e il marchese acconsentì subito e anzi disse dal momento che mia figlia non trova disdicevole sposare uno zoccolaio e mi sembra così felice e decido anch'io di seguire il suo esempio e chiederò a te mio futuro genero di darmi sposa tua sorella e con un sorriso si girò verso la stupita Elisabetta e presa la sua mano se la portò le labbra chiedendo mi accettate come sposo ma ma io sono così povera non ho niente da offrirvi mio caro marchese la tua bontà e la tua grazia le chiami niente oh sì accetta e Rosella e Silvano batterono le mani ma Elisabetta promise soltanto che ci avrebbe pensato su in brevissimo tempo cominciarono i preparativi per le nozze di Rosella e Silvano e tutto il meraviglioso palazzo fu decorato a festa e così pure la cappella dove fu celebrata la cerimonia tra invitati e accorsi da tutte le parti nobili e non furono imbandite tavole piene di ogni ben di Dio all'aperto nei bellissimi giardini e fino a mezzanotte si danzò e si fece festa poi ognuno si ritirò prima che tornasse alla sua casetta il marchese invitò Elisabetta a fare una passeggiata nei giardini che una splendida luna illuminava e teneramente le teneva la mano sotto il proprio braccio e le diceva penserete alla mia proposta vero carissima io sarò sempre in attesa Elisabetta stava per rispondere quando un grido acutissimo dal palazzo giunse fino a loro lacerando bruscamente la dolce aria di mezza estate corsero subito nella camera di Silvano e Rosella e trovarono la sposina che danzava come una forzenata al ritmo dell'indiavolato saltarello aiuto Silvano sposo mio solo tu puoi fermarmi e danzava e piroettava e saltava ad un angolo all'altro perfino sopra i mobili e sopra il letto il marchese suo padre e lo sposo riuscirono infine ad afferrarla e a tenerla ferma per ambedue le braccia ma i suoi piedi continuavano a scalciare una risata acida una vera sghignazzata provenne dalla finestra della terrazza rimasta aperta insieme a un insopportabile odore di zolfo era serpentino di nero vestito elegante sinuoso in effetti un po' serpentino dammi la mano bella marchesina tu ormai danzerai sempre solo per me no aiuto gridava Rosella non voglio e si stringeva il padre allo sposo ma i suoi piedi animati sembrava da diabolica forza la spingevano a camminare sempre danzando verso il malefico giovane ed ecco a un movimento più violento le caddero gli zoccoletti e terribile a dirsi comparvero i suoi piedi caprini sconvolti padre e sposo la lasciarono gridando a una voce strega serpentino scoppiò in una perfida risata e tese le braccia vieni a me sei la mia sposina mia e mia soltanto questo mai gridò Silvano ripresosi immediatamente afferrò un candeliere acceso per la notte e glielo scagliò contro le fiamme lo lambirono appena tuttavia scomparve ma sempre ridacchiando Rosella fu adagiata sul letto piangente e priva di forze la maledizione delle streghe su di me tornerà e mi porterà via sposo mio padre mio tenetemi forte ve ne supplico e tu Elisabetta sorella mia salvami tu sola puoi farlo ma fece Elisabetta ancora frastornata dagli avvenimenti come posso salvarti e non riusciva a distogliere lo sguardo dai mostruosi piedi della povera Rosella quella giovane che incontrasti prima della notte di San Giovanni non ti suggeri qualcos'altro le domandò ansiosamente Silvano oh sì ed Elisabetta si batte la mano sulla fronte come ho fatto a dimenticarmene aspettatemi tutti qui uscì dal palazzo e scese verso le proprie stanze non senza prima essersi fermata davanti all'immagine di Santa Gudula con la sua lanterna d'oro congiunse le mani e disse mai vi dimenticherò e sempre vi ringrazio fu forse un'impressione creata dal debole lume notturno acceso sopra l'effigie ma veramente Gudula mosse levemente il capo in cenno di saluto e di assenso Elisabetta le lanciò un bacio poi corse a prendere l'ampollina dove aveva conservato un poco d'acqua profumata delle erbe di San Giovanni e risalì al palazzo la marchesina rosella seduta in poltrona attendeva piena di speranza e padre e marito erano ai suoi lati aspettando anche loro Elisabetta versò l'acqua sui poveri piedi appoggiati su un cuscino e in breve essi cambiarono aspetto e tornarono intatti graziosi e in più molto profumati rosella subito si alzò e prese a danzare un saltarello stavolta molto garbato vera espressione di pura gioia e leggerezza d'animo e fu subito accompagnata con la stessa leggerezza dal felicissimo Silvano il marchese prese per mano Elisabetta e le disse non direte più ora che non avete niente da darmi anzi sono io in grande debito sposatemi e mi impegnerò a rendervi felice Elisabetta accettò e felicemente si unì alla danza a rendervi felice a rendervi felice a rendervi felice a rendervi felice Grazie a tutti.